Mi pensa di Carlo Costarelli come eventuale candidato del centro-sinistro? Non devo pensare io, io sono una persona sicuramente brava, un'economista di vaglia, non ho nulla da dire. In Sicilia Salvini ha presentato il logo Prima d'Italia, che appunto presidura una federazione tra Lega e Forza Italia. Io credo che la cosa importante che ho detto anche venerdì alla riunione dei Fratelli d'Italia, la cosa importante è che il centro-destra vada unito a ogni tipo di elezione, perché il centro-destra ha il maggior numero di elettori e quindi deve vincere il maggior numero di elezioni.